Presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la città di Agropoli, ricorda Santa Rita, la santa dei casi impossibili. Negli ultimi anni la devozione verso questa santa è cresciuta nella nostra cittadina, ma è una santa il cui culto è diffuso un po' in tutto il mondo. E sicuramente la gente, le persone sono attratte da questa devozione per la vita di questa donna che è accomunabile alla vita di tante altre persone che di fronte alle sofferenze, di fronte alle difficoltà rischiano di sentirsi schiacciati, ma nella fede e nell'aiuto di Dio trovano il conforto e trovano la forza per poterle superare. Molte persone si immedesimano nella vita di Rita, trovano in lei una confidente, un'amica, una persona in cui potersi rispecchiare e quindi trovare anche nella sua fede la forza per poter percorrere la via della vita cristiana così come ha fatto lei. È una devozione che come si è visto stasera è molto sentita nel nostro comune ed è sentita pure a Santa Rita da Cascia. Proprio noi siamo stati l'altra settimana in pellegrinaggio due giorni e abbiamo sentito che ci sono non so quanta migliaia di persone che appollano il santuario. Quindi c'è una devozione grandissima per questa santa. Ogni anno questa funzione ci emoziona perché Santa Rita è una santa che dà delle promesse che noi crediamo e siamo devoti a lei.